E rieccoci ragazzi, allora, classifica, siamo arrivati al superamento della prima fase di girone d'andato, un Pisa che sta andando bene e questa è la classifica delle prime dieci, quindi ancora molto tutto in discussione e niente, la formazione io l'ho già fatta e andiamo avanti, quindi metteremo notte qui, guardiamo solo le divise direi che, però io volevo far giocare il Pisa una volta con la divisa verde, che è molto carina come divisa ma è molto bella e quindi giochiamo così, calcio d'inizio e si parte Stiamo andando molto bene, arriviamo da tre vittorie consecutive, ho imparato a prendermelo con calma sto gioco tanto il discorso purtroppo della meccanica scritta e tutto il resto di pezzi si sa qual è e niente, andiamo avanti, tutto pieno, grande Giuseppe Mortisa e si parte con Pavoletti che arriva da un lieve infortunio McCartney, oggi il mediano Morrison Pallone a Sander McCartney Falco Darida si sgancia butta stoppa la palla poi fa andare un bel pallone, forse leggermente lungo, così Chiesa chiede scusa e riparte Lecce Martinez subito la palla Monteresi Taxidis ex Roma Haidu cerca di chiudere, palla a Intancelli Bravissimo qui Sander, ma poi Intancelli ritorna, ruba di nuovo il pallone e viene ridanciato, ma anche qui, palla troppo lunga Radunovic chiama su i giocatori evitiamo di farci pressare visto che abbiamo la compattezza al massimo che consiglia di giocare con la compattezza 10 perché si chiudono molti spazi Larida guardate com'è compatta la squadra vedete, arrivano subito sul pallone Falco Haidu palla bella terza sera che si gira è bravo Manzerain Mancosu Maselli Calderoni partita molto blanda, molto chiusa Lancia Lancia adesso da questa parte c'è Sander colpisce di testa Meccatre riparte il Pisa con calma Falco pallone Pavoletti e viene anticipato a lungo dello stop riparte il Lecce con Bermacu Pierino avanza sulla fascia fermato bravo Ivey pallone sul sede e cerca di toccare indietro pressato Intanenti Intancelli palla in fallo laterale e Sander se lo incarica subito ribatto Morrison allarga qui per Dawson che c'è spazio lungo passaggio in avanti bella la palla per Pavoletti che si gira molto bene aspetta l'inserimento dalle fasce bellissima palla per butta altro inserimento che non avviene darida dai darida bravo haido wu eh sì darida pallone verso sasera che si gira ha fatto il tiro mamma mia questo giocatore mi fa impazzio 29 anni ragazzi continua segna gran gol Lecce battuto ma guardate che tiro veramente bella come si gira nello spazio stretto di piatto colpevole portiere Lecce ci poteva anche arrivare eh Maselli Monterisi Taxidis Intanecelli che sarebbe Intancelli alla fine noi lo chiameremo così Taxidi Intancelli fermato Maselli subito Necchier Maselli attenzione del Lecce adesso qui è pericoloso butta non riesce a fermare Calderoni pronto al cross arriva butta attenzione leggero fallo è ancora mancoso mamma mia Darida può ripartire il Pise ancora Pavoletti mamma mia pallone a Falco ancora Sasedo Sasedo attenzione per farla doppietta il tiro e palla che finisce sotto il braccio nel portiere del Lecce recupera grande Mercati Darida cambia il gioco dall'altra parte Morrison la mette giù con calma poi qui sbaglia l'appoggio Dowson Alchettino Radunovic con un po' di rischio Sandner Aygdodou pallone a Falco che si gira tocca adesso inizio dei Pavoletti analizza le opzioni bella la palla per Darida a parte il tiro ribattuto Maselli trentaduesimo 1-0 Pisa Mancosu all'indietro per Calderoni Mancosu Palla Maier attenzione questo è un buon giocatore Maier mette il mezzo con calma e ne usciamo alla grande molto bene Pavoletti che tiene palla tocca Parajdu manda in profondità Sancedo mamma mia si gira Sancedo mamma mia mamma mia questo giocatore qui è micidiale 2-0 2 grandi gol una grande palla dagli tu guardate che profondità con i contagiri che gli ha dato si gira e la piazza nel palo più lontano mamma mia 2-0 Pisa con questo gol possono affrontare il match con il maggiore tranquillità Pallone ancora Mancosu chiude viene a chiudere anche Pavoletti un po' centrocampo lanci in avanti è grande mollo butta McHartney Falco Ayodu è provato la palla ma ribatte verso Falco e lecce Pavoletti Pavoletti sgancia la bomba mamma mia di poco alto ma che attaccante è Pavoletti ragazzi che piedi che c'è ma mamma mia difficile battere il portiere il bel giocatore non chiaramente straordinario ma un giocatore veramente che io consiglio nella master se giocate col 4-3-1-2 perché è una pace d'aria come Sansega Sansega attenzione è entrato a Foda ma Douson anticipa tocca per l'Arida e prova a lanciare ribattuto rimessa per il Pisa 2-0 doppietta del nostro grande immesso Sansega che ha dato tante soddisfazioni nel Milan nel Torino e anche nella Reggiana pallone ad Arida ancora tocca leggermente perbuta e poi non riesce a crossare rimessa per il Lecce Martinez Monterisi Pierino pallone dall'altra parte subito a pressare Sansega non riesce lo segue ancora e finisce con il tempo 2-0 gran risultato anche qui andiamo subito con il secondo tempo riparte con il Lecce Maselli Monterisi Intanicelli che poi sarebbe Intanicelli secondo me l'ho scritto male qua ancora fermato da un grande Aido che abbassa poi dopo un'ora l'arbitro decide che a fallo solita storia sapete come la penso ormai Intanicelli mette in mezzo il pallone esce Radimovic Ancora Lecce che pressa Maier palla l'indietro ancora verso di lui Calderoni poi Mancosu bravissimo gran devuta che può fermare tutto Darida pallone a Pavoletti che ora può avanzare rispetto al movimento rispetto al movimento di Sancedo e lo lancia posizione regolare attenzione e ancora la difesa Bottisa che fa un buon lavoro Mancosu ben finita ancora Lecce arriva Dowson 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 grandissimo fallo di chi scusa che avevo la palla io ah ah no perché sarebbe stato veramente colmo come faccio a fare fallo che ho palla Morison Sander Morison ancora Sander da questa parte cambia gioco buta ancora Dowson eh sbaglia tutto Maier prova di lanciare ma sbaglia ancora Darida Falco gira da questa parte Ailu pallone verso Sonsedo brutto fallo un tiro brutto fallo mamma mia che è entrata guardate che è entrata su Sonsedo questo meritava il calcio di punizione eh bruttissimo fallo questo e viene ammonito ma dato il vantaggio guardate che è fallo bruttissimo a costo di fargli male eh Martinez Monterisi Lecce che ultimamente è calato era secondo primo terzo un po' di andievieri Brande Sander che acquista questo ragazzo qua Paoletti che prova a lanciare il corso al sedo chiude Maier Calderoni ancora Calderoni che avanza Maier Falco che prova andare a chiudere molto compatto il piede con la compattezza a 10 si gioca molto bene vedete come si chiudono tutti i varchi grande Dowson mamma mia con una leggera fatica ma riesce a farsi una palla ancora Falco trova Pavoletti Pavoletti adesso la riuscire al seno pavoletti aspetta il movimento togliti palla buta buta tocca ancora per Pavoletti ancora buta effetto questo tiro mamma mia di poco fuori siamo sessantacinquesimo 2-0 Pisa direi meritatissimo lei ci ha fatto veramente nulla Pierino Pintancelli e poi adesso Sunder eeeh brutta scivolata attenzione ancora intancelli arriva Morrison lo lascia con intelligenza andare largo e difendare il pallone fuori ancora McCartney bravissimo buta poi vai Darida palla a Falco iniziona a Falco bravissimo ma tocca qui fa salire poi Pallone verso Pavoletti chiude ma forse c'è fuori sotto è così calcio di punizione per il Lecce Martinez il portiere la spedisce su colpo di testa di McCartney lasciamoli giocare attenzione deve andare a chiudere subito Dawson 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 mamma mamma mia come gliel'ha tolta bene Darida Falco poi Eidu che sale sale molto bene palla verso Salsedo poi mamma mia non arriva il pallone verso Pavoletti Pallone palla Pallone Pallone lascia continuare l'arbitro Maselli Meyer Meyer scusate grandissimo bello eh fallo su falco qui l'arbitro lascia proseguire eh si altro fallo palla palla pazzesco calderoni malcoso Meyer ottantesimo arriverebbe la quarta vittoria di fila attenzione pallone coda coda prova questo tiro risidioso intanto viene il momento per il fallo precedente e Meyer il pisa che si può riportare in avanti tranquillissimo del 2 a 0 grande pieta di ehm San Sedomona gran giocatore uno degli attaccanti preferiti dal sottoscritto ancora Falco pallone da questa parte ai due si fa vedere riceve il sander grande finta qui ancora ai due Falco appoggia Mccarty l'uomo dell'Africa tiro non è per razzismo eh assolutamente sono soprannomine do io Orzo Way Mccartney attenzione Masen Monterisi poi ci saluteremo ragazzi eh Regi poi farò ancora qualcosa oggi pomeriggio se avrò tempo perché devo andare via oggi giornata non tanto impegnativa però bisogna fare le cose che ci sono da fare palla ancora Mccarty l'intenzione Falco ma non è ancora da questa parte eh poi ai due tocca ancora perso al sedo la mette per Pavoletti che si gira ma non poteva fare di razzamento era pressata aveva la palla un po' lunga finisce ci saranno due minuti così 2 a 0 il Pisa che vince un altro scontro diretto conteranno molto al ritorno in base a come sarà la classifica ma io credo che Lecce se va un po' sul mercato deve andare assolutamente perché c'ha dei nomi e vinciamo proprietà del nostro grande Morositas Sansegna 2 a 0 andiamo a salutarci facendoli vedere risultati e classifica di questa Serie B molto meglio che quella della della Lega Inglese questa è un po' più giocabile Pisa Lecce 2 a 0 perde il Cosenza nel derby del Sud con la Serenitana Benevento Cittadella tra 1 perde la Spal con il Frosinone 2 a 0 pareggia ancora la Sampdoria 2 a 2 vince il Pescara vince il Brescia la Regina che perde col Genoa attenzione l'Udinese che continua a vincere e Venezia che perde in casa il derby con il Vicenza non è proprio un derby ma siamo lì la classifica siamo più 6 sulla terza e la quarta e più 7 su Benevento direi che va bene 16 colfatti 5 sono subiti miglior difesa del campionato direi che così qualcosa con Dosu e Morrison si se è cambiato Brescia 10 guardate la Sampdoria mamma mia mi dispiace per il Cittadella perché mi è simpatico visto i colori di cosa stiamo parlando Genova Sassuola boh possono annaspare quelle due le neanche tanto boh boh facciamo stare facciamo stare andiamo avanti vedremo il prossimo incontro mi sembra che c'è il Brescia e di fatti giocheremo lo stadio Rigamonti di Brescia vediamo qui cosa ci dicono vince il pallone d'oro Mertens mamma mia vabbè bene ragazzi le prossime due non ve le registro e vi registrerò uno scontro epico quello con l'Udinese va bene ciao a tutti e buona giornata e buona giornata ciao ciao